12 agosto 1984. Giovanni Paolo II, oggi santo, venne a Fano per incontrare i pescatori, per incontrare i marinai della nostra città. A distanza di 34 anni da quella storica data, da quella storica visita, Fano TV ha deciso di riproporvi questa sera, dopo il telegiornale delle 20 e 30, questo documento eccezionale, un documentario che abbiamo realizzato 14 anni fa in occasione del ventennale e ve lo riproporremo integralmente. Un appuntamento dunque da non perdere, il Papa a Fano incontra i pescatori, questa sera alle 20.45 qui sul canale 17 di Fano TV.